Pubblico, Ministero e Carabinieri della compagnia di Clusone impegnati in un lungo interrogatorio, 12 ore per sentire persone informate sui fatti che vedono coinvolto il primo cittadino di Valbondione, Benvenuto Morandi, ex direttore della filiale Private di Intesa San Paolo di Fiorano Aserio. Oltre a Morandi, ad oggi unico indagato, altre persone potrebbero essere coinvolte nell'inchiesta. Secondo gli inquirenti, l'allora direttore avrebbe sottoposto i clienti che deponevano in lui massima fiducia, prelievi e bonifici, come avvenuto sui conti di Gianfranco Gamba, della moglie e della figlia, all'oscuro delle operazioni che hanno portato ad un ammanco pari a 10 milioni di euro. Dieci sono anche i testimoni sentiti nelle ultime ore dal PM Maria Cristina Rota, dai Carabinieri e dai consulenti contabili di Torino, nominati dal magistrato. L'inchiesta, che vede impegnato anche un ispettore di Banca Italia, starebbe confermando la circostanza che Morandi, rispetto a molti investitori, era l'unico depositario di diverse informazioni e della destinazione dei soldi in titoli di varia natura. Davanti al PM hanno sfilato anche i sindaci delle società, il presidente Romano Mosca, i colleghi Giuseppe Mario Baronchelli e Gianfranco Stabilini, figure incaricate di controllare il bilancio, oltre a garantire la propria presenza alle assemblee dei soci. Resta però il sospetto ancora da confermare di alcune loro omissioni. Pare infatti che gli stessi presenti alle riunioni della STL dove gamba non figurava, ricordiamo che quest'ultimo deteneva la maggioranza delle azioni della Mountain Security, ceduta per la somma di 10 mila euro all'assessore al bilancio Sabrina Semperboni, risultasse però presente nei verbali. Un'inchiesta destinata ad allungarsi, mentre la perizia calligrafica cercherà di ricostruire le firme utilizzate a danno di gamba e di altri clienti. Grazie a tutti.